Code già dalle prime ore del mattino a Denver, fuori dai rivenditori autorizzati, tutti in fremente attesa di poter acquistare della marijuana. Tal 2014 in tutto lo stato del Colorado è diventata legale per i maggiori di 21 anni. Siamo tutti felici di poterne fare uso consapevolmente da adulti e l'opinione di una cliente. Finisce una politica fallimentare di proibizionismo che terrà molte persone lontane dalla galera. Per il momento sono solo una dozzina i rivenditori autorizzati, ma entro gennaio in Colorado apriranno molte altre attività. E intanto arrivano clienti da ogni angolo degli Stati Uniti. La città di Denver con la legalizzazione della marijuana ha creato un vademecum perché tutti possano sapere cosa si può fare e cosa è vietato, spiega Tony Fox, proprietaria di un coffee shop. Secondo le previsioni l'industria della marijuana produrrà un giro d'affari per oltre 2 miliardi di dollari. Anche nello stato di Washington, come in Colorado, è stata approvata la legalizzazione della marijuana con il voto del novembre 2012, ma le rivendite apriranno per la fine del 2014.